Cosa c'è dietro un'emozione? La passione per il nostro lavoro quotidiano, esperienza che custodiamo con orgoglio, per scrivere una storia che dura da oltre 50 anni. I nostri sono grandi vini, emozioni autentiche, da godere ad ogni sorso, che hanno il sapore di passione, tradizione e famiglia. Biagi. Il senso di un'emozione. Giuseppe Dichino. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Questo è Visionaire. Alla musica, come sempre, gli spaghetti rock'n'roll. Ragazzi, buonasera e bentornati. Buonasera, grazie, grazie. Benvenuti, benvenuti. Allora, iniziamo subito. Tra poco saranno con noi Michele D'Attanasio e l'artista Sergio Sarra, ma prima un giovane attore che è venuto a trovarci. Non fatevi ingannare dal cognome Sardo, perché lui è nato e cresciuto a Pescara, dove recita anche per una compagnia teatrale del posto. Signore e signori, Mirko Agus. Ragus! Ciao Mirko, buonasera. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Allora, tu reciti, ma nella vita ti occupi di altro. Sì, io allora faccio il corriere per una ditta che trasporta farmaci dalle Marche a Abruzzo. Ecco, una professione che poi, voglio dire, dopo due anni di pandemia ti avranno, immagino, ben provato. Invece com'è che hai iniziato a recitare? Allora, io ho cominciato da bambino, veramente, però saltuariamente, in quanto comunque da bambino non sai ancora bene che indirizzo prendere. Con la scuola? Con la scuola, sì, con le scuole elementari. Però poi ho cominciato a fare le cose più seriamente verso i 19 anni. Ecco, e ora tu reciti anche con una compagnia di Pescara. Che compagnia è? Sì, teatro instabile, si chiama, di Pescara ovviamente. E che genere di spettacoli fate? Musical, commedie? Commedie, sia in italiano che in dialetto napoletano, comunque poi... Napoletano? Napoletano, sì. Perché napoletano? Perché il regista è napoletano. Ah, e vi costringe tutti quanti a diventare partenopei. Se le propone e poi dice, se volete, facciamo questo. E quindi, come te la cambi col napoletano? Ma, abbastanza bene, dai. Vuoi dirci qualcosa? Tanto non andiamo in onda in Campania, quindi vuoi dirci qualcosa in napoletano? Non lo so, cosa ti posso dire? Ma alla fine sono tutti i luoghi comuni, sono quelle tre cose che tu ripeti sempre. La pizza, fuma, roring, gop. Capito? No, salutiamo tutti gli amici di Napoli. Se volete potete guardarci in streaming oppure rivedere la puntata su YouTube. Io lo dico, non si sa mai. Ti ho visto anche in qualche film, tra l'altro andati in onda su delle emittenti locali, tra cui di V6. Sì, 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 come no. Come Bermi vuoti d'anima, un film con la regia di Bruno Spadaccini, che per me è un maestro, sinceramente, perché lui mi ha fatto cominciare a fare film, lui mi ha messo dietro una macchina da presa e mi ha fatto cominciare a fare film. Se no, fino a prima facevo solo teatro e basta. Ecco, hai una preferenza? Preferisci il cinema, il teatro? Il teatro. Il teatro. Il teatro perché è buona la prima. C'è il contatto col pubblico poi. Parte quello ma è buona la prima, invece il cinema devi riprovare la stessa scena, un pezzo di scena, 20 volte, 30 volte. Quindi preferisco il teatro. Dici uno poi se la sbriga subito. Sì, 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 se sbagli sbagli, se non sbagli è andata. E a proposito di buona la prima, so che hai scritto un monologo apposta per visionare. Sì, è vero. Di che parla? Delle vittorie personali, sai come tante volte una persona si demoralizza se magari non riesce ad avere risultati o se magari ha qualche problema con qualcuno. Quindi io mi sono fatto forza perché comunque l'artista è anche questo, no? Cercare di ispirare in qualche modo. Di spronarsi da solo. Se non ti sproni da solo per primo, chi lo fa? Sono curiosissimo, ce lo fai sentire? Come no? Visionaire è tuo. Signore e signori, mezzo a... Ho vinto quando ho cominciato a capire che non è importante chi cammina al tuo fianco. L'importante è camminare. L'importante è andare avanti. Quando ho cominciato a camminare da solo soprattutto. Tante volte stiamo male, sto male per determinate situazioni, per delle incomprensioni con qualcuno. È una cosa normalissima. Però mi dicevo sempre, continua, vai, non te ne importare. Alcune volte dicevo, ma perché se io mi comporto bene con te, te non riesci a comportarti bene con me? E ci soffrivo, ci stavo malissimo. Poi ho cominciato a capire che alla fine ognuno fa quello che vuole. Io non posso cambiare nessuno, non posso cambiare le persone. Contro voglia. Quindi ho cominciato a pensare a me, pensare tutto quanto per me. Ma state sicuri che se sento vulnerabile la mia parte e se mi sento non preso in giro, ma come dire, sotto torchio o comunque la mia tranquillità viene meno, allora me ne vado. Chiudo la porta e non mi vedi più. Ho vinto quando ho cominciato a capire che posso essere grato a me stesso. Ho vinto quando un amico mi dice, sono fortunato ad averti. Ho vinto tutte le volte che faccio qualcosa che mi piace, come in questo caso. Sul corpo ho tatuato una frase che recita, non mi avete fatto niente. La uso come talismano contro chi vuole farmi del male. Ho vinto. Mirko Agus Grazie Bravi sto, Mirko. Mi hai motivato ad andare avanti in questa puntata. È una cosa piccolissima che però secondo me ci stava. Ma ce l'hai davvero il tatuaggio? Come no? Dove ce l'hai? Qui. Ce lo puoi far vedere? Viedo troppo. No. Se riusciamo a... Vabbè, il regista si vena. Ma guarda, si intravede anche più o meno. Non mi avete fatto niente. Non mi avete fatto niente. Perché non c'entra niente con la canzone che si conosce, ma è una cosa mia personale. Mirko Agus, signore e signori. Grazie. Grazie. Ci fermiamo un pochino per un po' di pubblicità. Tra poco di nuovo qui su Vision Air con altri tanti ospiti. A tra poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A tra poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rieccoci a Visionaire, introduciamo subito il prossimo ospite, si tratta di un grande direttore della fotografia cinematografica, ha lavorato con grandissimi artisti, grandissimi registi del calibro di Nanni Moretti, Sergio Rubini, è stato candidato 5 volte ai David di Donatello, ne ha 22, il primo nel 2017 con Veloce come il vento di Matteo Rovere, il secondo proprio quest'anno con Freaks Out di Gabriele Mainetti, signore e signori Michele D'Attanasio. Ciao Michele, buonasera, mi senti? Ciao, sì sì, ti sento, ciao, ciao, un saluto a tutti. Dove ti trovi? Tu vivi a Roma? Sì, guarda, sì sì sì, sono in realtà vivo tra Roma e Fermo, che è il paese della mia compagna, ci siamo ritrasferiti lì perché abbiamo un bimbo piccolo, quindi da quando è nato il bimbo, bene o male quasi da subito, insomma abbiamo fatto questa scelta che al momento è diciamo provvisoria, però quindi sì mi divido tra Roma, dove abbiamo questa casa, piccola perché era una casa presa per una coppia, non per una coppia con un bimbo, poi insomma è nato questo bimbo e quindi ora siamo siamo un po' appunto siamo un po' nomadi, tra virgolette, però insomma sei... Ma che anni ha bimbo? Beh, ha nemmeno due anni, fa due anni ad agosto e diciamo che per com'è poi il mio modo di lavorare, il lavoro che faccio, comunque sono abituato a questa vita fatta di spostamenti e di cambiamenti, ecco, quindi è una cosa la quale sono... Tu, ogni tanto per la tua pescara? Beh sì, io ho un paio i miei genitori vivono ancora lì e quindi passo per quello, poi ogni tanto passo a trovare qualche amico, insomma non me ne sono rimasti tantissimi, però ho dei cari amici a pescare, quindi mi fa piacere ogni tanto passare amici che sono legati o dal liceo che ho fatto, quindi amici vecchia data, oppure amici legati da quello che è lo sport, che è stata un'altra mia passione, che poi da ragazzino facevo atletica leggera, quindi mezzo fondo principalmente e poi ho questo mio amico coetaneo, tra l'altro era uno studente di mio padre che insegnava educazione tecnica a Pescara che è l'ex ciclista Danilo Di Lucca, quindi ogni tanto mi trovo a Pescara o appunto per salutare gli amici del liceo, o per salutare Danilo, Mario De Benedictis che era il mio allenatore quando facevo atletica, il fratello Giovanni il marciatore e via dicendo Scusa per tornare celare Sì 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 assolutamente Senti ti volevo chiedere subito di questi David Di Donatello, innanzitutto ce li hai lì? Sì guarda sono questi due, sono un po' sovraesposti, ora li prendo Aspetta, noi spiamo a casa sua Aspetta che non sento Wow, ma pesano? Eccoci qua Pesano? C'è da dire, sì sì pesano, poi se vedi, non so se noti, però hanno fatto un restyling perché questo qui è quello vecchio che è un po' più piccolo del nuovo ma è un restyling che hanno fatto quest'anno poi anche l'altra cosa è cambiata che quando te lo davano la volta scorsa c'era scritto migliore autore della fotografia e poi tu dopo ti aggiungevano il nome mentre invece quest'anno vedi non c'è ancora nulla perché probabilmente ti daranno già la targhetta giusta cioè c'è poi l'orafo che ti dà direttamente la targhetta giusta però invece le volte scorse ti davano c'era scritto migliore autore della fotografia però non c'era scritto né il film e quindi questa è stata aggiunta Aspetta che ce l'ho qua vedi Michele D'Atanasio è stato aggiunto dopo quindi la prima parte me l'hanno data così invece probabilmente ora per farla una sola volta te la danno così e ora poi mi chiameranno e metteranno l'etichetta con il mio nome e il film Ma te ne aspettavi un po' questo bis? Ma allora ero contento del lavoro che avevo fatto quindi sapevo che aveva delle buone possibilità pensavo poi sicuramente ti dico il lavoro che aveva fatto Daria su E' stata la mano di Dio sapevo che era un ottimo lavoro sapevo che era piaciuto molto anche all'estero e quindi nonostante poi è una collega che stimo un'amica eccetera però chiaramente temevo il fatto che sapevo che era lei la mia concorrente più agguerrita quindi Infatti è stato un ex equo Sì 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 no infatti poi sai l'ex equo è come noi c'è stato ora i mondiali tornando all'atletica di leggere è stato i mondiali è stato l'ex equo col salto in alto Esatto agli ultimi olimpiadi Esatto esatto e sì scusa le olimpiadi non i mondiali e fin quando lo vinci ci sta E' chiaro che se non fosse stato un ex equo e avesse vinto Daria chiaramente ci sarei rimasto male ma non perché lei non è stata brava perché comunque sono diciamo ho uno spirito agonistico ma sano ecco non è che sono contento se agli altri va male però chiaramente sapevo di avere delle buone possibilità perché ero anche contento voglio vedersi riconosciuto il lavoro il valore del proprio lavoro Peccato che non esistono più i telegatti se no qui staremmo a pieno Ah esatto 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 No 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 Sì a parte Ma è stato più emozionante questa volta o la prima volta? Il riconfermarsi o la prima volta? Beh allora è stato diverso la prima volta è stato molto emozionante forse più di questa perché era la prima volta proprio è stata veramente emozionante e questa volta è stata più ora per me scusami il parolone è stata più una consacrazione anche perché quest'anno veramente c'erano i mostri sacri c'era Sorrentino c'era di là dei miei colleghi però c'era Sorrentino c'era Martone c'erano tanti film importanti di registi importanti e quindi c'era una concorrenza spiedata e considera che poi Sorrentino è un film che è stato candidato all'Oscar come sappiamo e anche tutto il lavoro fotografico è un lavoro che è stato molto apprezzato e quindi avevo dei concorrenti molto agguerriti e allora a vissare il successo diciamo dopo nemmeno tanti anni e dopo essere stato candidato perché appunto io ho avuto 5 candidature nel giro comunque di 6-7 anni ho pensato se la vinco questa volta ecco qualcosina l'ho fatta ecco l'ho pensato e quindi e quindi è stata sì più una consacrazione se vogliamo chiamarla così poi non mi piacciono le parole altosonanti però sì è stata un po' quella qualcosina l'hai fatta e sono convinto anche che ne farai tante ma è vero che stai già lavorando a un nuovo film? sì no infatti ora mi sto vedendo perché prima posso dire che sono sentito tante volte ho detto no faccia un po' grigio un po' dopo sono appena tornato dal 7 infatti mi sto vedendo che se l'ho messo abbastanza male ma perché poi abbiamo iniziato molto presto insomma una scena abbastanza complessa sotto il sole dei fori imperiali a Roma e quindi sto dalle 6 per farci qualcosa con chi stai lavorando ma guarda ti posso dire allora sì ti posso dire con chi sto lavorando perché sono usciti comunicati stampa e tutto è una delle poche cose che ti posso dire perché è un set molto blindato come di solito che è quello di Nanni Moretti quindi il film è il sole dell'avvenire questo è e la scena che abbiamo girato oggi appunto abbiamo iniziato alle 6 fino alle 15 per quello io poi pensavo di finire un po' dopo perché retroscene che ci siamo sentiti circa un'ora per capire esattamente quando vederci ti ringrazio per la tua disponibilità e quindi insomma è stato oggi non so non so lì a Pescara non so in Abruzzo ma qui a Roma c'era veramente un caldo pazzesco e ora lo vedo tutto sul mio viso ecco la stanchezza insomma sto ancora con gli abiti che avevo sul set quindi insomma sono abbastanza stanco non ti preoccupare perché anche noi qui siamo sotto le luci e comporta quel che comporta in questo periodo dell'anno ti voglio chiedere un'ultima cosa per approfittare anche di uno che mastica cinema come te perché l'Abruzzo è sempre stato comunque protagonista nel cinema penso da quando Sergio Leone veniva qui a girare i suoi spaghetti western ma questa faccenda che in Abruzzo manca ancora una film commission cosa vuol dire per il cinema abruzzese secondo te? vuol dire che è un gran peccato ecco un gran peccato perché perché come poi mi hanno chiesto ho fatto degli interventi insomma è una cosa che va avanti da un po' di tempo la film commission aiuta cioè la film commission Abruzzo sarebbe una film commission perfetta perché abbiamo tutte le caratteristiche per poter essere una grande film commission le caratteristiche che abbiamo è che siamo un territorio piccolo e nel giro di pochi chilometri abbiamo mare montagna campagna e anche centri abbastanza grandi o comunque moderni come può essere alcune zone di Pescara ed è tutto veramente racchiuso in poco come dicevo le film commission al momento più virtuose sono ad esempio quella pugliese ma quella pugliese è al mare un'altra molto virtuosa è la Trentina quella Trentina Alto Adige hanno le montagne cioè mare e montagne nel giro di così poco di così pochi chilometri ma poi il lavoro va anche ottimizzato è chiaro le produzioni un film è molto costoso e le produzioni su quello devono stare molto attento e attente tra l'altro un tiro di schioppo da Roma cioè tutte le produzioni fondamentalmente partono da Roma quindi per una produzione spostare i mezzi eccetera a che ne so Campo Imperatore ma anzi no Campo Imperatore non lo voglio citare ma non perché è una location bellissima però la conoscono tutti anche i romani però noi sappiamo noi abruzzesi sappiamo che oltre Campo Imperatore ma ce ne sono mille di Campo Imperatore in Abruzzo quindi in qualsiasi location in tantissime location abruzzese arrivi a un'ora da Roma quindi anche la troupe se c'è l'attore che sta a Roma eccetera la sera può quasi tornare a casa cioè sarebbe anche comodo perché ad esempio parliamo Puglia e Trentino sono due posti lontani ma per non parlare di quando tu fai un film in Salento diciamo che stiamo perdendo un po' di occasioni eh no sì sì ma veramente io veramente sto più in Puglia che a Roma per dirvi perché esigiono tantissimi film in Puglia e tornando al nostro territorio veramente è uno spreco non avere una film commission ecco e poi tutto quello che comporta di positivo avere una film commission quindi il ritorno di turismo un indotto di tutte quelle cose che ruotano attorno al film che non sono solo gli attori le maestranze ma sono tutte le strutture ricettive piuttosto che i vari fornitori della zona che possono essere fornitori di legname di tantissime altre cose di fabbisogni è ampia la filiera del cinema è molto ampia sì senti ma come le tieni queste statuette cioè tipo te le guardi la notte prima di andare no 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 quello no non sono un feticcio no però sono sono felice di averle vinte poi sempre tornando a questa cosa dello sport comunque mi piace come come uno sportivo a riconoscimento no perché aprivi primo al traguardo piuttosto che che segni più gol piuttosto e quindi comunque un riconoscimento così importante come il Davide che è un po' l'Oscar italiano mi fa piacere averlo perché mi ripaga del mio lavoro non è non è questo l'unico motivo per cui lo faccio perché sicuramente mi piace esprimermi mi piace esprimermi con la fotografia lavorare con sempre con registi interessanti su storie interessanti però avere anche questo riconoscimento mi piace molto insomma devo dire mi fa piacere poi cavo vi sto vedendo ad esempio tra i vari maestri io sono autodidatta però ho sempre avuto dei direttori della fotografia con i quali mi sono confrontato e molti sono stati dei mosti sacri tra cui Rotunno direttore della fotografia anche candidato all'Oscar che ha lavorato con tutti i grandi Fellini Visconti eccetera e ho raggiunto Rotunno per il numero di David poi c'è da dire c'è da dire però che Rotunno quando lavorava lui il David alla fotografia è stato istituito nell'ultimo periodo della sua carriera chiaramente perché sennò ne avrebbe diventi di più però nonostante questo che lo so che non ho fatto quello che ha fatto Rotunno assolutamente no però già avere lo stesso numero di David che avrei detto insomma già questa cosa mi fa piacere ecco sei sempre in tempo a superarlo poi anzi come l'augurio giusto che ti dovrei fare il mondo del cinema è tanta merda giusto? sì sì quello in bocca al lupo sì sì quello sono abbastanza scaramanti così c'è insomma delle piccole cose che faccio ma sono scaramantico anche quando inizio un film ho delle piccole cose una stupidaggine cioè tipo io di solito ho un'agenda per ogni film però scrivo il nome del film dopo qualche giorno che ho iniziato a girare lo scrivo sopra un nastro adesivo che usano i macchinisti che è sempre quello proprio tutte piccole cose stupidaggine insomma sento che essere superstiziosi porta male no scherzi a parte un'ultima domanda però voglio che mi rispondi a bruciapelo se tu potessi scegliere un qualsiasi regista al mondo per cui dirigere la fotografia che nome mi faresti? ma ad esempio mi viene in mente adesso uno a bruciapelo un regista italiano mi piace tantissimo è Matteo Cadrone anche internazionale non per forza italiano no no certo bruciapelo ti direi Matteo Cadrone che è un regista che mi piace tantissimo capito Matteo capito grazie 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 Michele D'Attanasio signore e signori Davide Donnello 2022 grazie davvero per la sua disponibilità è stato gentilissimo ciao a presto ciao ciao buona serata e ora signore e signori un altro ospite si tratta di un grande artista tra i più quotati in Abruzzo anche lui pescarese le sue opere sono state esposte in tutto il mondo dalla Biennale di Venezia a quella dell'Havana a Cuba fotografie quadri sculture installazioni la sua arte si esprime in tante maniere diverse e ora ce la racconta signore e signori Sergio Sarra caro Sergio buonasera benvenuto grazie dell'invito fa un sacco piacere che se qui ti presento gli spaghetti rock and roll e tra pochissimo ti faccio sentire come suonano ora ci fermiamo per un po' di pubblicità a tra poco con Visionaire con Sergio Sarra con Sergio Sarra con Sergio Sarra noi e c'è il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è che ho cominciato in quell'istante a dipingere, a disegnare, come molti della mia generazione facevamo delle cose manualmente. Io ho passato tutta l'infanzia a disegnare, costruire, plasmare. Questa cosa è continuata nell'età adolescenziale. Poi a un certo punto, senza decidere in maniera così perentoria, mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti, senza fare la riunione di famiglia. Mi sono iscritto. E l'è stata una scelta condivisa dalla tua famiglia? Non mi ricordo neanche se gliel'ho detto. Mi ero iscritto a Bologna, appunto, all'Accademia. E lì è diventata una cosa sempre più importante perché l'Accademia, almeno a quell'epoca, era una scuola dove potevi fare un quadro di tre metri, insomma, a discutere tutto il giorno della cosa che mi interessava, che era l'arte. Quindi, quello è stato il periodo in cui mi sono accorto che avrei fatto quello, cioè durante l'università, che in questo caso si chiama Accademia. E c'è stato poi un momento in cui invece, quindi durante i tuoi studi, anche perché poi l'arte non è solo ispirazione, anche tecnica, e durante i tuoi studi, quindi, hai deciso che avresti fatto arte nella vita e c'è stato poi un momento nella tua carriera in cui ti sei reso conto che allora è possibile vivere di arte. Allora, insisto nel dire che non l'ho mai deciso, che è una cosa che tra l'altro non sopporto molto fare, decidere le cose, no? Preferisco che accadano così. E puoi cominciare a fare l'artista se cominciano a chiederti, ci piacerebbe esporre un tuo lavoro. Allora, quello, quell'invito, quell'occasione che ti gratifica molto ancora adesso, ti, così, ti, in quel momento ti rendi conto che probabilmente il tipo di ricerca che stai facendo interessa a una persona, almeno, che è quella che ti ha chiesto, esponi nella mia galleria, esponi nel mio museo, oppure esponi con me in una determinata situazione, oppure produciamo questo lavoro. Quella cosa, piano piano, mi ha immerso nel, completamente, 24 ore su 24, a fare l'artista, senza neanche accorgermene, praticamente. Ti ricordi qual è stata l'opera che ha segnato un po' la svolta, che hai detto, wow, allora interessa anche a qualcun altro? Fammi pensare. No, mi ricordo che non avevamo finito l'accademia, l'ultimo anno ci chiese di esporre, una galleria di Bologna ci chiese di esporre a tre di noi, tre studenti della stessa classe, con il nostro professore che faceva l'intermediario, però non mi ricordo che opera fosse, comunque era enorme, mi ricordo che era dipinta da Crito, un'opera enorme che sposi a Bologna con due miei amici, quella fu la prima mostra che facevamo, proprio. Wow. Poi, certo, in quel momento non ti rendi conto di niente, della difficoltà, del grado di competizione che è altissimo, è come forse il cinema, un grado di competizione così alto, il teatro, la poesia, e di conseguenza quella cosa, cioè, mantenere anche un ritmo per cui sei invitato continuamente a fare delle cose, è un sistema che è inspiegabile, non riesci a determinarlo tu da solo, non determini quasi niente. Infatti stiamo parlando di arte, uno può timbrare il cartellino. Puoi solo fare la migliore opera possibile che ti viene quel giorno e non puoi deciderne la riuscita prima, perché altrimenti tutti deciderebbero di fare un capolavoro al giorno. Io mi metto lì la mattina, un po' sospettoso nei confronti dei materiali che ho davanti, ci giro attorno, vado fuori, ci giro attorno, sto sempre in studio. Poi a un certo punto faccio qualcosa e piano piano quelle cose che faccio riguardandole mi sembrano un po' possibili e allora le faccio vedere a qualche amico curatore, le faccio vedere a mia moglie, e prendo io coraggio rispetto ad esse, alle opere. Nei tante nel cassetto che in realtà poi non hai proposto al pubblico? Nello studio ho diverse opere perché sono indispensabili per poter fare quella successiva. Se io mi privassi di tutte le opere o decidessi di venderle tutte, questo è il tema della puntata, è la decisione. Io lavoro sull'indecisione. Sono contento che almeno hai preso la decisione di venire qui questa sera. e di conseguenza tenerne un po' in studio, un materiale in studio permette di avere dei, non dei parametri, anche una sorta di filo conduttore, che procede così, non come uno sviluppo, perché si può anche avere delle fasi in cui regredisce il lavoro, però un filo conduttore. La mia ricerca ha dei fili conduttori che poi si concentrano in periodi in cui approfondisco l'esperienza facendo delle serie sullo stesso tema. E questa è la cosa più importante. Un filo conduttore che però poi si dirama attraverso diversi metodi espressivi, perché usi diversi materiali, diverse forme d'arte, è iniziato, dicevi prima, col disegno, ma in base a che cosa decidi se fare un quadro, una scultura o quant'altro? Quello... E perdono, mi ho chiesto la cosa decidi. Sì, tu sei filosofo, quindi ti prego di soffermarti su questa cosa della decisione. Cioè nel senso che scegliere una tecnica non è possibile, diciamo, rispetto all'immagine che tu hai in testa di fare, l'immagine o l'installazione o l'ambiente che vuoi andare a costruire, la tecnica, diciamo, è un po' quella che viene quasi naturalmente per quella cosa. Ultimamente, guarda, principalmente, adesso in questo periodo sto lavorando, in questo momento, su dei pseudo, perché non sono proprio dei disegni su carta, no? Però sono dipinti, in realtà. Cioè sto disegnando col pennello. Tra l'altro, in negativo, perché su una superficie piuttosto scura, ecco il bianco. Quindi è un disegno un po' in negativo. Tu mi chiedi, ma in questo momento come mai hai deciso di fare questa cosa? Come mai? Non me l'hai chiesto, non ti rispondo lo stesso. E non lo so. Assolutamente non lo so. Però approfondisci una serie che secondo me è partita almeno... L'opera precede la ragione dell'opera e non viceversa. Ecco, entriamo sui tuoi studi di filosofia, questo mi piace. E poi ognuno ha un proprio sistema di lavoro. Io ho questo sistema così attendista, quasi nulla facente, per cui alla fine in realtà poi lavoro moltissimo. Sto sempre in studio, tutto il giorno. Senti, ma il varano è il tuo animale guida? No, te lo chiedo. Il varano no. Perché Sergio Sarra ha realizzato tante opere in cui ha realizzato varani, questo tipo, dalle foto, i quadri, le sculture. Come mai questo animale? Oh, questo lo posso spiegare abbastanza bene, spero. Cioè, intanto non l'ho mai visto dal vero, che è una cosa fondamentale. Interessante questo. Io non sono proprio tanto propenso a disegnare dal vero, se non sul paesaggio, alcuni paesaggi che ho focalizzato dal mio studio, facendo delle finestre proprio apposite per vedere, che so, il Monte Camicia. Il varano, il varano che è un animale, quello che io ho usato per tante volte, che sta solo in una piccola isola di Komodo. Il drago di Komodo. Bravissimo. E il varano, il drago di Komodo, io non l'ho mai visto, e ho sempre mandato dei miei amici, pagandoli, a fotografarlo. Per mantenere una sorta di antinaturalismo, cioè non volevo essere colpito, avere l'impatto visivo così. Mi interessava come paradigma di animale sopravvissuto, quasi cosmologico, come se fosse un segno zodiacale, vivente. e inoltre, un piccolo capolavoro di tecnologia, nel senso che caccia di notte, perché riesce a distinguere la preda per il calore che emana. Cioè, aveva una serie di caratteristiche, ha una serie di caratteristiche, per cui era il paradigma perfetto di alcune cose che io volevo fare rispetto a guardare il cielo, a guardare perché i segni zodiacali sono delle unioni di punti di stelle. Tu direi che c'entra col barano che sa... Alla prossima puntata c'entreremo. Molto interessante perché ho visto molti i tuoi barani, ora li guarderò... Poi li sdoppiavo, li raddoppiavo, mi interessava questo fatto che è un elemento, è un soggetto, è un animale che è vivente da forse milioni di anni, molto più è preistorico, è uno dei più antichi che c'è al mondo e questa cosa mi permette anche di renderlo un po' atemporale, atemporale, cioè nel senso che la doppia immagine per me ha un senso di atemporalità, cioè è una proiezione anche nel futuro, cioè secondo me sopravvive a noi il barano. Stavo pensando... Anzi, in questi tempi ci sopravvive sicuramente. Diciamo, viste le calamità che incombono, non faccio gesti superstiziosi per galanteria, ma... Parlo di qualche migliaia di anni. Poi penso, chi magari si è sintonizzato ora penserà, ma dove sono su National Geographic? No, no, è Visionaire anche questa sera. Perfetto. Senti, noi andiamo spesso a rubare dal mondo del web, dal mondo del web. E a proposito di arte mi sono ricordato di una pagina social di grande successo che si chiama Se i quadri potessero parlare. E la trovo molto interessante perché il quadro ovviamente, la fotografia cos'è? Cattura un momento di quella circostanza, lo rende immortale, e però in realtà com'era quella scena, quella situazione in movimento? Cosa stava realmente accadendo? E la pagina prova a interrogarsi anche su questo. Vogliamo provare a vedere cosa ci trasmette un quadro, a immaginarci insieme che cosa sta accadendo? E poi vediamo invece che... Io sono un pessimo lettore di quadri, vediamo, di altri. Bene, allora ci proviamo, ci proviamo. Sei in ottima compagnia. Beh, bene. Arte a parte. E allora, e allora, e allora, proviamo a capire che cosa direbbero sti quadri, se potessero parlare. Il primo quadro che ti propongo, caro Sergio, si chiama Il riposo, è di Ernest Angel Duets, chiedo scusa per la mia pessima pronuncia, è del 1891, lo stiamo vedendo in questo momento. beh, una ragazza direi bella comoda. Sì, ma, o bella comoda, sì, sì, non lo conosco questo quadro, guarda, francamente. Ah, te più che comodità ti stava esprimendo un senso di stanchezza, di disagio. Lo vedo poco, so anche a una distanza così, però diciamo, sì, che cosa ti dovrei dire, per esempio, rispetto a questo quadro? Non lo so, guarda, allora, facciamo parlare la pagina. Il primo è andato. Vediamo che cosa dice questa ragazza, secondo me, perdona mia madre, fornuita loca. Ok. E in Asper, probabilmente. Consiglio è che io non ho neanche il telefonino, più delle volte, quindi sui social mi interroghi, ma trovi proprio la persona più bella. Non utilizzi social? No. Zero? Ma mi piacciono moltissimo, ma poi non farei più niente. E poi non sono tanto in grado di mandare le cose, riceverle, quindi metterei in difficoltà la persona con cui... Però mi piacciono, mi piacciono. Cioè, ho capito un po' cos'è Instagram, così mi trovo fantastico. Se trovate Sergio Sarra sui social, non è lui, però potete trovare Visionaire su Facebook e su Instagram. No, io non ho niente di tutto questo. Prossimo quadro, mattinata settembrina di Paul Shabazz, che sumo, del 1912. Sai che sono quadri che conosco poco? Belli, bellissimi, di minori che probabilmente hanno lavorato anche bene. Questo sarà un francese. Esattamente, 110 anni, e l'autore è francese. Beh, allora vediamo. Andiamo al terzo. Vediamo cosa... Un attimo. Vediamo cosa da dire. Ah, lo dice lui. Pensavo lo volessi sapere da me. Sì, sì, sì. Adesso appa... Ma l'accappatoio! E poi uno si aspetta magari il quadro che debba per forza rappresentare un qualcosa di sacro e invece può rappresentare anche un momento della quotidianità anche più fribola. Assolutamente, assolutamente. Vediamo se è il caso dell'ultimo quadro. Che cosa abbiamo? Ecco, no. L'ultima cena di Leonardo da Vinci dipinto tra il 1494 e il 98. Questo non è un minore, diciamo. Questa è una delle opere d'arte più famose della storia dell'umanità. Però è difficilissimo parlare di questo quadro perché è così complesso per cui veramente dovrei ragionarci. però la composizione di questo quadro è praticamente forse solo la Smeninas di Velázquez compete come complessità rispetto a questo. È anche carica simbolica ed esoterica di significati. Però qui non voglio... Guarda, vorrei ascoltarti davvero ore parlare. No, perché mi interessa però purtroppo ora devo dissagrare il tutto quello che hanno detto i soci e tornare a visionarla perché purtroppo... Ma chi le ha dette queste frasi? Per esempio Sono curioso. Questa pagina se i quadri potessero parlare è una pagina non so anche se è un'attività però che mi ha fatto divertire molto e che ha centinaia di migliaia di seguanti. Ok. Sì, ma famo alla romana. Dividiamo. Dividiamo il conto. Sono in tanti, sì, sì. Va bene. Non dividiamo solo il pane. Va bene, ti chiedo scusa. No, 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 no. Vai, via, 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 via. Come se non fosse mai successo. Perfetto. Signore e signori. No, no, no. Possiamo... È stato interessante invece. Non la tagliamo questa. Vediamo. Vediamo, vediamo. Sergio Sarra, signore e signori. Grazie, grazie, grazie. Ok, grazie. Allora, dove ci mettiamo? Salutiamo a quella camera lì. Anche per questa sera Visionaire termina qui. Siamo arrivati in fondo alla nostra puntata. Ringrazio, come al solito, gli spaghetti rock'n'roll. Sergio Sarra, che è stato con noi. Grazie, Sergio. Visionaire torna tra una settimana esatta. Ci vediamo la prossima settimana. Buonanotte. Voglio muovere la cocco, mamma. E ballare il slip, mamma. E cantare in fracca, in ballo e rock'n'roll. Sono pazzo come rock'n'roll. Sono pazzo come rock'n'roll. Oh, mamma. Voglio fare il cascheo, oh, mamma. scivolando dal video mamma e gridare we we come fagli scimpanzè sono pazzo come rock sono pazzo come rock